So che ti sei divertito ieri sera. E tu credi a Chase? Credo a Foreman. E loro si sono divertiti con te. Cos'è successo? Ho capito che possono essere miei amici. Parli sul serio. E poi mi è passata la sbronza. Non eri tanto ubriaco. Stanotte sei riuscito a trovare la strada per il tuo lettino. Dormo meglio con le lenzuola con le navette spaziali. No, vuoi dare la colpa alla sbronza, ma è troppo facile. Cambiare è difficile. E la saggezza è conoscere la differenza tra ciò che puoi cambiare... ...e quello che è congenito. E codardia è etichettare ciò che non vuoi cambiare come innato. Ha vinto il mio ragionamento.